ok ragazzi come ho detto weekendino in trentino weekendino in trentino andiamo a beccare un po di fresco che strade line fantastiche spettacolo il trentino che bel fresco ragazzi che bel freschino 28 gradi mi segna buono 28 gradi che bella stradina scusa ma mi dispiace nonna nonna notte ricita che bello ma che bello il trentino 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 10 chilometri e non c'è traffico e cosa importante non sappiamo ancora dove andare a dormire perché siamo partiti senza prenotare è agosto comunque siamo uniti di tenda quindi casomai ci buttiamo in uno spiazzo ok ok ci si diverte un poco passano la vazzè sti cani e ma che bello che bello ma che bello paesino trentino paesino caratteristico trentino montano ragazzi con le strade che si inerpicano inerpicarsi dentro qui si sale si sale sono un po stanco ragazzi ho lavorato stamattina eh acqua acqua frecca acqua frecca ragazzi acqua frecca di un po'EP COTOT الزero per l'COVIDA un po l'appeää ma che bello ma che bello ma solo la vazzè te va che storia va che storia scontegga sa governo bella spettacolo bello questo bosco bosco un po detumpato ragazzi guarda la guarda la sopra la madonna mia che casini molto bello questo passo mi piace strada appena rifatta però peccato per questo casino qua della foresta un po deturpata siamo a 1500 metri ragazzi 1500 a me sale ancora un po guardate qua che cavolo qua c'erano tutti gli alberi ma per fare tornare la foresta com'era penso ci vorranno decine di anni ragazzi decine di anni passo la mazzè bello il cartello del passo cominciamo a scendere dal passo lavazzè e andiamo a cercare un posto dove perlottare tiriamo nella provincia di bolzano che spettacolo wow si tirò l'alto adige passo costa lunga e qua il lago di carezza che spettacolo wow aspetta figa non ci fermiamo scusa ma che bello ragazzi il lago di carezza spettacolo spettacolo trentino e ragazzi bellissimo lago di carezza dobbiamo cercare assolutamente il campeggio ragazzi oggi bivaco avventura ragazzi oggi bivaco avventura con il nostro Diego qua in trentino non sappiamo se si può fare ma il bivaco si può fare in caso di di proprio necessità quindi bivaco avventura non c'era niente 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 grazie grazie